Ola amico, quella di oggi è la puntata numero 200, yeah! No, 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 dai, troppo buoni, troppo buoni. Oh, in questi dieci mesi ce ne siamo raccontati un bel po', che ne dici? Beh, per festeggiare l'evento ho deciso di farti un bel regalino. In collaborazione con il negozio Forstix, che mi ha sempre supportato fin dall'inizio, ho ottenuto una serie di sconti in esclusiva per te su una marea di prodotti, dalle batterie rullanti, dalle bacchette, all'hardware, dai pedali, alle custodie, mixer, microfono, insomma, di tutto. Il negozio spedisce in tutta Italia, quindi ti consiglio di darci un occhio perché è roba buona. Per ricevere questi sconti ti chiedo solamente in cambio due minuti del tuo tempo, per compilare un questionario online velocissimo. In questo form ti chiedo semplicemente di darmi una mano a capire bene che cosa vuoi vedere nei prossimi 100 video. Questo per avere un'idea più chiara di quelli che sono i tuoi interessi, cosa ti può essere veramente utile e cosa invece non fa per te. Ci vogliono veramente due minuti di orologio ed è assolutamente anonimo, quindi scrivi pure senza farti problemi. Dadò devi morììì! No dai! L'ho già fatto per il video numero 100 e mi è stato utilissimo per migliorare i contenuti che ti preparo ogni giorno su questa pagina. Completato il questionario, ti compare un link grazie al quale potrai accedere a tutti gli sconti di cui ti ho parlato. Uè, ma come faccio ad accedere a sto form, daddo? Nelle note a questo video puoi trovare l'indirizzo da cliccare qui sotto. Dai, dimmi cosa ti piacerebbe sapere e vatti a fare un po' di shopping compulsivo! Oh, ma ci sarà anche la gaffa da comprare? Non lo so, eh?